orma saluta ci troviamo nel parco della valle valle del treia e precisamente alle cascate di monte gelato le cascate di monte gelato sono quelle che siamo noi adesso? si sono proprio loro queste qua si se ben ricordo l'anno scorso proprio oggi eravamo a porto ghiacciolo oggi siamo a monte gelato vorrà dire qualcosa? certo che si, si cerca il fresco e l'estate e dopo una bella camminata ci vuole una giusta mangiata e oggi ci prendiamo delle pre cucine ai funghi